Amma pre... Poi gli vuol dire il mio numero, ma faccio il mio... Ma come c'è a disposizione? Sì, ma basta lì da Damis Ma ci si abbassano scandidati Ma chiusa... Ma tu hai un'affortunità metterlo Pronto? Che è? Pronto? Ma che è? Pronto? Pronto, chi sei tu? Signora, io è la prima volta che chiamo Vi sto dicendo... Ma la prima volta? Sì Signora, ma che state dicendo? Ma che è? Signora, ma... Ma come... Pronto? Ma la seconda volta che chiamo? Signora, mi dovete credere, è la prima volta che chiamo Sì Baratevi... Signora Signora, baratevi tu cazzo Io vi sto chiamando... Ma è la prima volta che chiamo? Ma è la prima volta che chiamo? No, è la seconda volta Signora, sto dicendo che è la prima volta Hai capito? Seconda volta Signora, è la prima volta A seconda volta E è la prima volta, signora E è la prima volta, signora Signora Signora... Signora... Signora, ma ti fa parlare? Io vi sto chiedendo semplicemente una cosa Ma la faccia di rischia o no? È rischia, rischia Ah, allo È casa esposito Nessuna casa esposito È... È... A casa di... A casa di... A casa di esposito Signor, è se non è casa esposito Voi, perché rispondi dato lei? Ehi... 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 Vabbone, era stato vabbone, signora Signora... Lasciate stare... Vabbò, io mi stai in un nero geometra e sposto Mamma mia... I Tappi Su Radio Kiss Kiss Napoli